Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Matteo e oggi vedremo insieme come fare un trasferimento d'immagine. Il trasferimento d'immagine si può fare su qualsiasi tipo di supporto, sul legno, carta, metallo, noi lo faremo sulla carta e utilizzeremo una foto, se siete italiani l'avete già riconosciuta, è Mina, abbiamo preparato lo sfondo, abbiamo messo sotto il testo e lo spartito musicale di una delle sue canzoni più famose, grande grande grande, e poi abbiamo applicato sopra la foto. So che in commercio ci sono tantissimi medium che permettono di fare questo, ma noi abbiamo fatto questo trasferimento solo ed esclusivamente con mod podge e acqua. Quindi vediamo insieme come fare un trasferimento d'immagine. Allora, qui abbiamo la foto, l'ho stampata due volte così, dovesse rovinarsene una, avrei già l'altra disponibile senza doverla ristampare, e poi ho stampato sia il testo della canzone grande 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 che lo spartito musicale. L'ho stampato anche in dimensioni ridotte per avere delle figure sullo sfondo di dimensioni diverse. Allora, la prima cosa da fare è iniziare a preparare la foto, visto che poi è quella che fa perdere più tempo. Per preparare la nostra foto noi dobbiamo mettere uno strato di mod podge, farlo asciugare, un secondo strato di mod podge, farlo asciugare, e un terzo strato di mod podge e farlo asciugare. Quindi adesso iniziamo a prendere una foto che ci interessa. Ok, perfetto. Prendiamo il mod podge. e cominciamo a stendere il primo strato. Uno strato abbastanza generoso, ma soprattutto uniforme su tutta la foto. La foto è stampata con una stampante laser, ovviamente questo lavoro purtroppo non può essere fatto con una stampante a getto d'inchiostro, perché se no con il mod podge e tutti i colori che useremo, l'inchiostro della stampante si smuoverebbe e verrebbe fuori una grandissima schifezzuola. Ok, questo lo lasciamo da parte e lo lasciamo asciugare. Adesso pensiamo al testo. Allora, se vogliamo macchiare la carta con il caffè, istintivamente verrebbe da buttarci del caffè sopra e punto, e poi farla a pezzi, usando solo i pezzi che ci interessano, che ci servono. Ho notato che così facendo, con la carta già macchiata, quando poi andiamo a tagliarla, a strapparla, per avere i pezzi che ci interessano, il bordo resta comunque sempre molto più bianco. Quindi il mio consiglio è di farla prima a pezzi e poi macchiarla con il caffè. Allora, cominciamo a fare a pezzi questa carta. Se volete usare le forbici, usatele, come vi ho già detto io invece la strappo, perché non voglio i bordi netti, ma preferisco i bordi sfrangiati, quindi iniziamo a rompere questa carta. Ok, adesso abbiamo i nostri pezzi di carta. Allora, prendiamo un piatto, un vassoio, quello che avete, li posizioniamo tutti. Io preferisco posizionarli a faccia in su per un motivo, perché il caffè poi quando si deposita e fa le, chiamiamo le pozzangherine, lascia macchie anche dove è più o meno concentrato, quindi mi piace anche quell'effetto. Allora, versiamoci su un avanzo di caffè, non restiamo, non stiamo lì a rifare il caffè apposta per, o al massimo possiamo usare un fondo di caffè già fatto. Ok, questo era proprio il fondo della caffettiera. qualora il caffè dovesse essere troppo scuro, possiamo tranquillamente aggiungere dell'acqua e ci assicuriamo che ogni pezzettino di carta sia effettivamente sporco di caffè. perfetto, e questo lo lasciamo asciugare o possiamo asciugarlo con un phon. Ricordatevi ancora che se usate la pistola a caldo, state attenti perché la carta la brucia con una facilità esagerata, quindi un phon è preferibile. Se usate la pistola a caldo, state lontani dall'oggetto e continuate a muovere il getto di aria. Quindi anche questo lo mettiamo a parte e lo facciamo asciugare. Ok, allora il primo strato di Mod Podge è asciutto. Vi accorgete che il Mod Podge è completamente asciutto quando è completamente trasparente. Quindi mettiamo subito il secondo strato. Ok. Non so se si sente ma il gatto mi sta chiamando. e anche il secondo strato è messo e lo lasciamo asciugare. Ok. Secondo strato di Mod Podge è completamente asciutto, vedete che torna trasparente. Mettiamo il terzo e ultimo strato. sempre abbondante. Ok. perfetto. Terzo e ultimo strato lo mettiamo da parte e lo lasciamo asciugare. Adesso occupiamo del supporto sul quale vogliamo trasferire l'immagine. Io ho usato questo cartoncino perché mi servirà poi da mettere dentro una cornice. Resta inteso che il trasferimento di immagine lo potete fare su qualsiasi supporto. È molto bello il trasferimento di immagine su legno. Io uso semplicemente carta a cartone perché va bene ugualmente. Allora iniziamo a mettere la nostra carta macchiata con il caffè che nel frattempo si è asciugata. La cosa importante da dire è che più la base è liscia e più facile sarà il trasferimento. Ed è esattamente per questo motivo che non andremo a mettere a fare lo strato con tutti i pezzi di carta come abbiamo fatto fino ad ora. Mettiamo solo le note musicali che abbiamo preso, i pezzi del testo e così via. Quindi mod podge e iniziamo a incollare. E un pezzo l'abbiamo messo. Qui in questo caso è importante schiacciare molto bene quando evitare che restino sotto delle bolle d'aria. Ok. Direi che possiamo farlo asciugare. Ok. Il nostro supporto di base è asciutto quindi iniziamo a dargli un po' di colore. Ovviamente dovendoci mettere sopra una foto io sceglierei personalmente dei colori chiari. Un po' per non nascondere troppo quello che abbiamo messo sotto. Questo che colore è? Un'ocra. Ok. Ricordiamoci che dobbiamo solo sporcare leggermente e aggiungere del rumore. Quindi diluiamo tanto i nostri colori. Quindi abbiamo messo un'ocra e ci mettiamo anche un'ocra. Penso sia rosa questo. Ok. Giusto per avere più colori. Allora. ok. Io ci metterei anche qualcosa che faccia più da contrasto. Il verde no perché odio il verde. parliamo a metterci un magenta. Ecco qua e là. Allora. ok. E lo facciamo asciugare. Ok. Allora. I colori che abbiamo iniziato già a mettere. sono asciutti. Vedete che il testo si vede ancora. Le note si vedono ancora. Ci sono queste macchie. Per aggiungere altro rumore io adesso userò questo cartone che ho preso se non ricordo male da una confezione di cracker. Poi questo pezzo di plastica che è il fondo di una scatola di brioche. E poi volendo c'è anche questo stampino in silicone ormai un po' vecchiotto però per il nostro scopo va più che bene. Allora. Volendo usare colori chiari. Allora io posso così. Iniziare con un arancio. questo stampino. Allora stenderlo. Ok. Perfetto. prendere questo stampino. Sporcarlo. perfetto. Scusate mi rendo conto che balla tutto ma... ok. Abbiamo messo il nostro rumore sotto la foto. Poi per questo potremmo usare... allora. Usiamo questo marrone. Chiaramente non tanto. Lo diluiamo un pochettino. Ok. prendiamo il nostro cartoncino. Lo sporchiamo. E lo riportiamo sul supporto. Perfetto. e dulcis in fondo. Allora. Proviamo con questo viola. Chiaro. prendiamo questo pezzettino. Prendiamo questo pezzettino. perfetto. Perfetto. A me sembra che il nostro supporto sia pronto. E quindi lo lasciamo asciugare. Ok. Allora. Terzo strato di Mod Podge. Asciutto. Quindi questa andrà su così. Perfetto. Allora. Cominciamo a togliere la carta in eccesso. E tre. Allora. Qui mi lascio una parte bianca per poter maneggiare meglio la carta senza dovermi poi sporcare tutte le dita con il Mod Podge. visto che adesso dobbiamo incollarlo perfettamente al nostro supporto. Quindi il Mod Podge ce lo teniamo qui. ok. Il Mod Podge è su tutta l'immagine. bene. E adesso andiamo a mettere l'immagine sul nostro supporto. ok. Allora. Adesso qua viene un passaggio molto importante. Massaggiate bene tutta la carta. perché al di sotto non devono restare assolutamente bolle d'aria. Non deve restare niente. La carta deve aderire perfettamente al supporto. ecco. Anzi se avete una spatola. Ecco. Utilizzatela per far sì che tutto. Vedete che viene via la colla in eccesso. Anche dai lati. quindi attenzione a non sporcare la parte alta della carta con il Mod Podge. Quindi niente bolle d'aria. Continuate a massaggiare. Continuate a massaggiare. Non deve restare assolutamente nulla. la carta deve aderire perfettamente a ciò che c'è sotto. Per questo all'inizio vi dicevo che non avremmo fatto una base troppo complicata con troppa carta. perché poi da gestire per la buona riuscita del trasferimento è veramente impossibile. impossibile no perché non si fa però visto che questi sono solo video dimostrativi per darvi l'ispirazione non è il caso di complicarsi troppo la vita ecco. io direi che di bolle d'aria non ne vedo. Anche se poi come sempre succede salteranno fuori dopo. però no. Sembra di aver fatto un buon lavoro dai. Ecco qua c'è una bolla d'aria per esempio. Cerchiamo di cacciarla fuori. verso l'esterno. io direi che non vedo altro. ok possiamo fermarci. magari questo iniziamo già a toglierlo. benissimo. adesso questo non dobbiamo farlo asciugare ma dobbiamo farlo letteralmente seccare. quindi abbiate tanta tanta pazienza usate il phon, lasciatelo su un calorifero dove volete. purché quando lo riprenderemo in mano per trasferire la foto purché sia veramente ma veramente non asciutto ma proprio secco completamente secco quindi abbiate pazienza e facciamolo asciugare. allora è passata circa un'ora io questo l'ho lasciato sul calorifero adesso dobbiamo armarci di due cose soltanto ovvero un bicchiere di acqua e tanta pazienza. allora con un dito andiamo a bagnare la carta e molto delicatamente iniziamo a strofinare e non so se si riesce già a vedere ma la carta inizia a sollevarsi e resterà attaccato al nostro lavoro fondamentalmente solo il toner quindi solo l'inchiostro della stampante è un lavoro che richiede tanta pazienza ma che da veramente tanta soddisfazione lo stesso è stato che Allora, dove troveremo questi aloni bianchi, nonostante lo strato superficiale di carta è già venuto via? Quando resta così bianco e opaco vuol dire che c'è ancora carta da tirare via, quindi andate avanti finché la superficie non è completamente liscia e libera da questi aloni bianchi. Aloni bianco vuol dire carta da togliere, quindi andate pure avanti. Ok. Allora, vi accorgerete di aver tolto tutta la carta, non solo perché non ci sia, sarà più appunto l'alone bianco di prima, ma anche perché la superficie diventerà liscissima come se fosse di velluto e quindi voi avrete la vostra foto perfettamente trasferita, lo sfondo con tutto quanto avete messo sotto. Adesso per dare profondità alla foto, come sempre, noi utilizziamo la nostra, forse non si legge neanche più ormai, stabilo 8046, la mettiamo lungo i bordi della foto e andiamo a sfumarla. perfetto. E siamo pronti per metterla in una cornice. Ok. Allora, questo è il lavoro finito. Ho dovuto togliere il vetro perché sennò in camera non si sarebbe visto assolutamente nulla se non solo il riflesso. Vediamolo più da vicino. Io trovo sia venuto pressoché perfetto. Spero che il video vi sia piaciuto. Potete fare lo stesso lavoro con le vostre foto, con le vostre canzoni, con qualsiasi sfondo vogliate che si intraveda sotto la foto. Lasciate un mi piace o un commento. Grazie mille a tutti.